Sì, signore e signori! Tradizionale ingresso alle spalle e lupi di ingresso, il pianto è di agosto del nostro piccolore formazione a 1.500 metri e la fase romescia di questo lupi di ingresso. Il Maggiore Franco Paolo Marocco a chiudere in posizione di Codino Pony numero 10. Andiamo su dalla voce del Maggiore Pierluigi Raspa al diamante punta dritto verso il cielo azzurro per la prima spettacolare apertura. Eccolo, la prima separazione, tre sezioni, come detto il solista di centro e poi dirigerà a sinistra, a quattro, quelli alla nostra destra, ecco il prima spettacolare, il croce! Il croce, il sicuro amore del cardioide, il posto in sui ammazzoni. Fuori tutti, via dalla voce del secondo fanalino, Pony numero 9, Capitano Leonardo, Leo, all'esordio in questa stagione 2022 delle frecce del Mugi Raspa, ingresso da destra, ora ci mostrerà come si esegue un tonno con 9 aeroplane. 2.5, 2.20, 2.500 piedi, 2.29 al top di questo tonno, sinistra a botte alla rotazione, torna al ascio, non subizionare delle primi volerdi, ma da una traiettoria come a disegnare l'interno di una gigantesca, botte a destra, 650 km orari, fumo bianco, volo rovescio, tonno, a segno reale, fumo bianco, volo rovescio, vi sta dimostrando le caratteristiche tecniche di questo addestratore, vi posso, tutto italiano in grado di sostenere, volo a testa in giù fino a circa 25 km a seconda, i consecutivi poi spinge sulla flossa cercando attraverso il lettore di sostenere, come da tradizione sulle note del con te, partirò. Con te, ho vissuto con te, adesso si vede, tu stavi per mani, e io sono... ...attro entusiasmante, incrocio, 3, 2, 1, foto, ora! ...attro entusiasmante, in questa manovra, 3 successivi incroci, di cui quello in alto, eseguito all'aria, ovvero senza riferimenti, che rende questa manovra particolarmente completa, di congiungere sulla prima sezione, ma noi guardiamo a sinistra, ancora una volta il turno del nostro assolista, con... ...in questo momento, a bordo del nostro derivolo, tutto sta pesando circa 7 volte il suo peso, in terra, questo cerchio, perfetto, con il fumo bianco, 360 gradi di virata, con ancora una volta close, a sinistra, inversione, spinge, fu, in questo modale, negativo, meno 3G, per una differenza, un valore assoluto, ...10, ci si arrampi dalla nostra destra, smaltendo la sua velocità per i colori, sarà la potenza della virata, Schneider, negativa di poni numero 10, a coltello, e fumo bianco, 280 noti, spinge, con una volta, sulla spinta, mostrandoci il suo casco bianco, mentre viene interamente, spinge fuori, nella ritaglio, per il suo ritmo, da una forza, parecita, 3 volte il suo peso, ...è la legatura del seggiolino di iniezione Martin Becker, a tenerlo saldamente ancorato all'interno dell'abitacolo, da 5 delivoli, poi da 1 a 5, poi 3, poi 1, e questo triangolo inverso, maestoso, sale, verso il cielo, alle sue spalle, in affondata, il solista, a guadagnare velocità, e poi una caprata, mentre cavalca i fumi del nostro tricolore, per inserirsi, dal basso, nella spettacolare, avventura dell'Arizona, manovra dell'Arizona, dedicata ad uno dei luoghi di ritrovo, dei primi pionieri, degli anni venti, alla fine destra, mentre, con questo prossimo incrocio, chiuderanno questo enorme abbraccio, dedicato a tutti voi, presenti qui oggi a Marina di Massa, 3, 2, 1, foto, ora! Grazie a tutti! 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 tricolore che ci ha dato speranza in tempi difficili e che ogni volta ci ricorda come dobbiamo essere.